Benvenuti. Nuove sfide aspettano l'ambito obbligazionario. I bassi rendimenti e l'efficacia delle azioni delle banche centrali, nonché il ridimensionamento delle aspettative dei rendimenti, sono le sfide chiave per il futuro del mercato obbligazionario. In casa Raiffeisen, per affrontare queste sfide, abbiamo pensato al fondo obbligazionario globale flessibile a bassa volatilità Raiffeisen Conservative. Questo fondo si caratterizza per elevata diversificazione. Il fondo investe in tutte le asset class obbligazionarie, ad eccezione delle obbligazioni convertibili. flessibilità. Il fondo investe, indipendentemente dal benchmark, su tutte le classi obbligazionarie, ad eccezione delle convertibili. Terza caratteristica, l'innovizione. Infatti il fondo parte con un approccio di rispariti nella costruzione strategica. Quarta caratteristica, la volatilità. Il fondo, infatti, ha un livello di volatilità definito ex ante nell'ordine dal 2 al 5% per anno. Ultima caratteristica invece è la liquidità. Il fondo può investire fino al 50% dei propri attivi in prodotti di liquidità. In termini di processo di investimento, il fondo lavora su tre diverse fasi. La prima fase è un approccio strategico di parità di rischio, in cui il gestore investe proporzionalmente nelle classi di attivo in funzione della volatilità delle stesse, cioè minore è la volatilità della classe di attivo, maggiore è l'esposizione. A questo approccio di parità di rischio viene aggiunte delle strategie che lavorano a 1 e 3 mesi per catturare quelli che sono i trend di breve periodo del mercato obbligazionario. Nella terza fase, se nell'implementazione di queste tattiche la volatilità del fondo supera il 5% per anno, entra la liquidità come detonatore per riportare il portafoglio entro quel livello di volatilità definito ex-ante. Diversificazione, flessibilità e innovazione sono le caratteristiche principali del fondo Reifisen Conservative, disponibile anche in una classe a distribuzione di cedola mensile e che rappresenta per noi in casa Reifisen il futuro degli investimenti obbligazionari. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie a tutti.